Il contesto è quanto mai formale, la firma di nuovi protocolli strategici per cementare la cooperazione tra Italia e Pakistan. E qui, nella conferenza stampa finale, a precisa domanda, il ministro degli esteri di Islamabad, Yin Akar, parla della vicenda di Asia Bibi. La sorte della donna cristiana accusata di blasfemia verrà decisa dalla magistratura in un giusto processo, dice. Poi aggiunge. La stessa legge sulla blasfemia protegge quanti accusati ingiustamente e ora verrà utilizzata anche contro chi l'ha accusata. L'equazione è facile da farsi. Se l'accusatore finisce alla sbarra, allora viene logico credere che l'accusata sia innocente, illecitamente detenuta, ingiustamente condannata a morte in primo grado. L'auspicio è che ora questa logica venga seguita anche dall'Alta Corte di Lahore nel processo di appello. Un processo che però non riesce a iniziare, in quanto nessun giudice ha avuto il coraggio di sfidare i gruppi estremisti e le loro minacce di morte a coloro che si azzerderanno ad affrontare il caso Bibi. Shabazz Bhatti, ministro delle minoranze, Salman Taser, governatore del Punjab. Già il loro sangue è stato fatto scorrere. Il loro eroico martirio è stato ricordato oggi alla Farnesina. La strada che vogliamo percorrere è quella della libertà religiosa, ha ribadito il ministro Akar. Allora, diciamo noi, è venuto il tempo che le parole seguono scelte concrete, anche coraggiose, per spezzare una spirale di ingiustizie e di lutti.